È stata una serata bellissima quella di ieri sera all'Aquila. Il sold out del Gran Sasso di Taglia Concia ha fatto da cornici alla sfida tra la nazionale cantanti e quella dei politici. Tanto entusiasmo e colori con il pubblico delle grandi occasioni, visto che sono stati oltre 6.000 i biglietti venduti. È riuscito l'intento di far divertire il pubblico per uno scopo benefico, con l'incasso devoluto per sostenere il reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La partita del cuore, 2024, ha portato la firma di un Aquilano Doc. La direzione artistica, infatti, è stata affidata al maestro Leonardo De Amicis. Presidente, non so se scenderà in campo, sicuramente un occhio di riguardo per la sua Inter. Qualche elemento interessante da portare a mister Inzaghi? Come no, tutti li portiamo a Inzaghi. Prendiamo in blocco questi e li mettiamo a fare gli spettatori quando gioca l'Inter. Oggi siamo tutti insieme. È il motivo per cui ho accettato di fare l'allenatore e che di solito devo dirigere tra centrodestra e centrosinistra qualche volta con l'aria tesa. Qui sono tutti nella stessa squadra, quindi finalmente tutti d'accordo. Non c'è Maretta in spogliatoio. Con la casacca azzurra, prima l'ho bloccata ricordandole un po' le gesta di uno che in famiglia forse calcisticamente ne capisce di più, punto interrogativo. Tutte e due i figli ne capiscono di più, uno di questi qui giocò il torneo delle regioni, che è forse il torneo per i direttanti più importante a livello giovanile. Persero in finale i ragazzi della squadra in cui giocava anche mio figlio, ormai sette anni fa, sei anni fa. Posso dire che sotto l'aspetto delle interviste è terminata la gara 2-2. La russa, il sindaco Biondi, Conte e Matteo Renzi. È un pareggio, è un 3-1. Come siamo noi? Lo scopriremo solo vivendo. Un pronostico per la gara? Vincono i cantanti, però noi per una volta... Per una volta che non si... L'importante è che non ci si picchi in campo tra di noi, già questo sarebbe un passo avanti. Perché succede altrove, purtroppo. Purtroppo, facendo brutte figure, lo fanno altrove. Bene che stavolta almeno si faccia sul serio. Sono anni che non gioco, penso in questo momento mi trovo meglio col microfono in mano. No, però è bello ritornare a giocare, soprattutto per... Uno scopo importante. Importante e poi ritrovare anche magari artisti e conoscere artisti è importante ed è bellissimo. Mi piace tanto giocare a calcio, ho giocato tanti anni a calcio e poi anche uno sfogo, sono felice. Dopo gli impegni artistici. Dopo gli impegni. In bocca al lupo, allora non so se possiamo chiederti quale sarà il tuo ruolo. Ehm, non lo so, io giocavo a centrocampo, quindi... Il classico numero 8 o il numero 10? Da rifinitore, diciamo. Bravissimo. Ma la partita, com'è andata? Un pirotecnico 7 a 7 al novantesimo ha portato le squadre ai calci di rigore, con i politici risultati più bravi dal dischetto.